Sono scaduti a mezzogiorno di ieri i termini per la presentazione delle liste che daranno vita alla campagna elettorale per il rinnovo dei sindaci in 33 comuni della regione. Attenzione puntata sulle sfide di particolare rilevanza che ci saranno nei centri più grandi e di interesse per i futuri equilibri politici dello scacchiere regionale. In particolare c'è la città di Isernia dove sono circa 500 i candidati consiglieri e ben 9 quelli di primo cittadino. Non si esclude finora infatti una vittoria al ballottaggio. Nel capoluogo di provincia sono Rita Formichelli, centrosinistra, Cosmos Tedeschi Uniti per Isernia, Sara Ferri, Selle e altri partiti della sinistra, Emilio Izzo, Isernia domani, Lucio Pastore, Pensiero Libero, Mino Bottiglieri, Movimento 5 Stelle, Gabriele Melogli, Forza Italia, Giacomo D'Apollonio, Fratelli d'Italia, Alleanza per Isernia, Stefano Testa, Pensieri e Idee per Isernia. Si vota poi a Boiano, comune strategico per il consistente corpo elettorale che gravita nell'area matesina e nelle mire del centrodestra regionale desideroso di rivalsa e di riconquistare terreno ai danni del PD. Alla fine saranno 5 i candidati della poltrona di primo cittadino e ci sarà anche l'ex consigliere regionale Massimo Romano. Massimo Romano, Boiano Domani, Marco Di Biase, Boiano Futura e Dario Patullo, Movimento 5 Stelle, Gaetano Policella, Boiano Unità e Alfonso Mainelli, area matese. Ad Agnone invece la sfida è a tre, fra il sindaco uscente di centrosinistra Michele Carosella, Nuovo Sogno Agnonese, il centrodestra guidato da Lorenzo Marco Vecchio insieme per Agnone e l'outsider Vincenzo Scarano, Agnone Identità Futuro.